Il 23 febbraio alla Biblioteca Berio, un momento di riflessione sugli interventi sociali legati al carcere, alle persone messe alla prova, alle persone recluse. La regione Liguria si è impegnata in questi anni in diversi filoni, da una parte col servizio civile regionale si sono fatti dei progetti per persone messe alla prova che hanno dato ottimi risultati. Con il bando portato avanti dall'assessorato politiche sociali insieme all'assessorato formazione, quindi col collega Rossetti, su tutte le abilità al centro, ci sono stati progetti mirati sul carcere, sia per migliorare la qualità della vita in carcere che per l'inserimento lavorativo delle persone detenute nel momento del loro inserimento sociale, e poi i patti di sussidiarietà sul carcere che hanno visto la creazione di una rete di tutti i soggetti del terzo settore che operavano nel carcere, per migliorare la qualità della vita in carcere e per anche l'aspetto del rinserimento sociale. Quindi sono impegni che in questi anni sono stati portati avanti con la collaborazione di molti, ovviamente con il Ministero di Grazie e Giustizia, una collaborazione molto proficua a livello tecnico e con tutti i soggetti appunto anche del terzo settore. sarà l'occasione per fare il punto della situazione sulle cose fatte, ma anche per lanciare nuove idee per il futuro.